Uh, eccolo! Finalmente l'abbiamo trovato! L'abbiamo trovato! Sì! 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 Distrutto! Sì! Shit! Your mother! Oh mio Dio! Your mother noob! I am alone! Your mother noob! I have the Omega! It's the best skin in the game! And you don't have a skin! Guardalo! How? You hacking! You do it fucking hacking! Ciao amici! Iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e attivate la campanellina per non perdervi nessun mio fantastico video! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo fantastico video di Fortnite! Ci troviamo in un altro troll su Parco Giochi perché questo è l'episodio speciale dei 500.000 iscritti! Infatti questo è un episodio doveva uscire fra 3-4 giorni perché Parco Giochi Troll è uscito solo ieri! Ma mi son detto perché non facciamo uscire anche oggi Parco Giochi Troll visto che abbiamo raggiunto i 500.000 iscritti? E infatti questo è il vostro regalo per avermi supportato alla grande! Mamma mia neanche due anni fa il 2 agosto... No aspettate il 10, il 20... Comunque nella stessa settimana di agosto del 2016 avevo fatto i 100.000 iscritti! E adesso dopo due anni siamo arrivati a 500.000! Grazie a tutti per il supporto! Il precedente video di questo Parco Giochi Troll ha fatto più di 9.000 mi piace e sono veramente tantissimi! Lo sapete appena raggiungiamo i 3.000 mi piace faccio un altro fantastico episodio di questa fantastica serie! Iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti per supportare questa fantastica serie! E così non vi perdete questi bellissimi video! E ora godetevi questo bellissimo troll su Parco Giochi dove abbiamo trollato un bimbo ricco con la skin di Omega! Avete capito bene? Questo bambino continuava a prendermi in giro e mi insultava perché non avevo le skin e mi dava del noob perché ero senza skin quando io lo distruggevo sempre! È stato veramente un episodio divertente e mi sono divertito veramente tantissimo! Grazie a tutti per i 500.000 iscritti! Scrivete nei commenti hashtag 500k perché questo è l'episodio speciale! Appena questo video raggiunge i 3.000 mi piace comincio subito a registrarne un altro di questi episodi perché sapete sono difficilissimi da registrare Perché io ci metto delle ore per trovare i bambini giusti da trollare e niente godetevi questo fantastico speciale di troll su Parco Giochi! Siamo in questa nuova fantastica partita qui su Fortnite! Stiamo giocando insieme a due ragazzi che hanno le skin scioppate tipo quella alla deriva e hanno quella di Omega! E quindi sono due ragazzi che hanno una vocina pucciosa che possiamo secondo me trollare e far arrabbiare! Perfetto! Abbiamo già trovato un abbraccio leggendario e troviamo un po' di armi, un po' di materiali e poi finalmente possiamo andare ad ucciderli! Uh! Eccolo! Finalmente l'abbiamo trovato! L'abbiamo trovato! Sì! 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 Distrutto! Sì! Snoob! Oh mio Dio! No! No! Stai giunto tu mia mamma! Non ci posso credere! Non ci posso credere! Sta dicendo non ti preoccupare! Io ti uccido! Hai capito? Io ti uccido! Oh mio Dio! Questo quanto è maleducato! Mi sta urlando del... Mi sta dando del noob! Cosa? Mi sta continuando a insultare mia madre! Perché? Gli ho dato semplicemente del noob! Non è un insulto noob! Allora facciamo una cosa! Ci prendiamo qua tutte queste cose interessanti e non gli lasciamo niente! Lui si trova in quell'edificio! Andiamo subito a prenderlo! Dobbiamo vendicarci! Nessuno! E dico nessuno mi prende in giro! Capito? Oh! E' qui! E' qui sopra! E' qui sopra! Andiamo a vedere dove si trova! E' qui! Oh! E' uscito! E' scappato via! Andiamo a prenderlo! Andiamo a prenderlo subito! Dobbiamo cercare di uccidere! Fanno arrabbiare! Deve essere qui sotto che sta ancora lutando! Aspettiamo! Va! Aspettiamo! Mettiamo questo campfire per recuperare un po' di vita che abbiamo perso! E vediamo un po'! Questo coso qua! Questo bambino qua! E' veramente maleducato! E' qui! E' qui da qualche parte! E' qui da qualche parte! Che sta lutando! Eccolo! Eccolo! Eccolo che è qui! E' qui proprio! Avete visto? E' da questa parte! Sta scappando! Sta scappando! Ehi! E' qui che sta scappando! Wow! Oddio! Wow! Noob! You! You! And you! And you bitch! I am noob! And you bitch! Oh! Sentite! Sentite! Crede di essere... Crede di essere... Intelligente a insultarmi in questo modo! Non ci posso credere! Just fuck you! Oh mio Dio! Quanto è maleducato questo bambino che abbiamo trovato! Non ci posso credere! Sta rosicando tantissimo di essere stato ucciso da un senza skin! Don't buy skins if you noob! Eh 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 eh! Just shut up! Oddio! Oh mio Dio! You fucking... You fucking bitch! You know? Sembra che... Sembra che... Sembra... Sembra essere un bambino che ha appena iniziato a imparare le parolacce, secondo me! Facciamo una cosa... Dove... Dove andiamo? You bitch! Facciamo un ponte! Facciamo un ponte e andiamo... Andiamo vicino a questo launchpad così appena lo spottiamo possiamo andare direttamente da lui con il launchpad perché l'ha piazzato lui prima! Fantastico! Ok! Questo qua è veramente un bambino! Veramente tanto divertente da trollare! Sell that omega skin noob! Ho detto di vendere la skin! Vendila! Vendila che non ti serve niente se sei un abbo! Eccolo! Trovato! È lì! È lì! Guarda! Guarda! Ha già preso tanto tanto tanto! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Why? Ha detto che io sono un labbo perché non ho la skin! Non ci credo! Mi sta insultando! Mi sta dando del nube perché sono povero! Perché non ho i soldi per comprarmi una skin! Lo sapevo! Questo qua è uno di quelli ricchi che è contento di avere i soldi! Di spenderli in tutte le skin! Di prendere in giro quelli che non possono comprarsi le skin! Fantastico! Eccolo! Eccolo! Guardate! È proprio lui! Avete visto? È un omega! Vedete? Vedete? È un omega e ha scioppato! Ha scioppato veramente tanto tanto tanto! Prenderà quel pompa? Prenderà quel pompa? Sì o no? Oh! Guardalo! Che cacchio fa? Mi ha tirato un fortatile! Oh! Ha distrutto il mio coso? Ok non l'ha distrutto! Basta che non distrugga il mio launchpad perché è importantissimo! Noob! You have too many skins! Gli dico che ha troppe skins! Gli dico che ha troppe skins! You noob! Ciao a tutti! You noob! You noob! Noob! Sei! 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 Why? Sei! Sei noob! Noob! Mi sta dicendo... Parla! Parla! Di! Di che sono noob! Di che sono noob! Ok! You noob! You noob! Oddio quanto mi fa ridere questo bambino! Ovvio dice che sono un big boy! Yes! You have skins and you noob! Yeah! I have skins and I pro! And you don't have skins! Dice che non ho le skins! What? I killed you! Oh! Eccolo! 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 Guardalo! 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 Fantastico! 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 Si! Dice che sono un noob! Give me Omega skin, please! Adesso dico di dargli la... Please give me Omega skin! Give me... Gli sto dicendo di darmi la skin di Omega! Why? Dream! Gli sto chiedendo di darmi la skin perché sono povero! Lui mi sta dicendo... Lui mi sta dicendo... No, non te la do... È mia la skin! Dream! I want that skin! It's beautiful! I want it! You don't need it! Gli sto dicendo che non gli serve con la skin perché tanto lui è Nabbo! Fantastico! Adesso lo uccidiamo di nuovo! Lo uccidiamo di nuovo! Adesso questa volta... Go to Dime! Questa volta... Oh! Dice che devo andare a morire! Questa volta usiamo una tattica diversa! Adesso lo uccidiamo! Ancora prima che atterri! Così lo facciamo arrabbiare in questo modo! Perché la gente si arrabbia tantissimo quando la uccidi prima che prenda qualche arma! Finalmente! Guardate! Guardate! Non mi ha neanche visto! Cioè non si guarda neanche attorno! Avete visto? È un piccolino! È un piccolino! Fermo! Fermo! Stai fermo! Fermo! Boom! Aiuto! Ma che cacchio fa? Perché il mio compagno di squadra mi sta sparando? Oh mio Dio! Mi sta dicendo perché sto facendo questo! Perché sei un noob! Non hai la skin! Ho l'Omega! È la migliore skin del gioco! E tu non hai la skin! Oh! Non ci credo ma ha detto che la skin di Omega è la migliore skin del mondo del gioco e io non ho le skins e quindi devo stare zitto! Sentite! Mi sta prendendo in giro perché lui ha una skin e io non ne ho! Non ci credo! Sta pure cantando! Questo! Questo! Ma che vuole quello? Sentite! Facciamolo cadere quello perché mi è sancato! Facciamo! No no no! Non posso trollarlo! Non posso trollarlo perché mi è occupato di squadra! Però anzi lo trolliamo perché tanto questo è parco giochi! Non è neanche una battle royale vera! Ma perché mi sta sparando! È lui che mi sta sparando! È stupido che mi occupa di squadra! Pensa che io sia il suo nemico! Ehi Vale! È suo tuo amico! Ho eliminato Vale! Eccolo! Fantastico! L'abbiamo trovato! Facciamo una cosa! Facciamo tutto il giro! Oh cacchio! Facciamo tutto il giro perché vorrei cecchinarlo! Io adoro usare il cecchino lo sapete! Oh eccolo! Oh! No cacchio! Ho sbagliato! Guarda non mi aveva neanche visto! Oddio! Non mi aveva neanche visto! Yes! The most noob omega in the world! Oh! Eccole qui dentro! Grande Vale! Oh mio Dio! Noob! Oh mio Dio! Ho ucciso Vale! Ho ucciso Vale! Noob! Shut up! I can't! Oddio! Learn how to play this game noob! Ha urlato! Ha urlato! Noob perché ha ucciso un senza skin che è il mio compagno di squadra e poi si è fatto ammazzare subito! Adesso sto capendo! Lui dice che faccio degli shot con il pompa strani che neanche ninja può fare! Forse da quel che ho capito! E quindi... E quindi mi sta chiedendo se sono sicuro che non sto hackerando! Perché sto facendo dei soldi strani! Ok! Adesso non rispondo più! Non rispondo più per far sembrare che sono tipo colpevole! E per il tempo cerchiamo di trovarlo! Where are you? Stop camping noob! Ok! Ok! Questo qua deve essere un fan di ninja! Ho riporto! Oh! Lo sapevo! Ho fatto finta di non rispondere per essere colpevole! Ho riporto! Fantastico! Sì! Che figata! Lui crede che io sia un hacker! Non ci posso credere! Allora! Andiamo subito a trovarlo! Where are you? Stop camping! Are you scared? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove ti stai nascondendo? Dove ti stai nascondendo? Why? Non ho il hacker! Sei sicuro? Non ho il hacker! Sì! 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 Questo qua si sta arrabbiando! Sta continuando a dirmi se sono un hacker o no! Oh mio Dio dice che non lo sa se deve riportarmi o no! Ci deve pensare! Vabbè! Non ci posso credere! Uno che insulta! Uno che prende in giro i senza skin! Che alla fine comincia a fare il poliziotto di Fortnite! Oh mio Dio! È qui! È qui! Alleluia! L'ho trovato! Adesso lo uccidiamo subito! Guardalo! No! C'è una nuova doppietta! Siamo attenti! Sì! 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 Mi ha chiesto di lasciarmi il loot! Sì! Mi ha chiesto di lasciarmi il loot! Ok! Mi ha chiesto di lasciarmi il loot! Oh mio Dio! Mi lasciamo la porraccia e la doppietta! Dai! Perché se li prendiamo tutto poi questo qua è in scuitta! Fantastico! Mamma mia! Questo qua si è arrabbiato tantissimo! È un nabbo a giocare! E mi dà dell'hacker! Ma è stupido! Mi ha appena chiesto dove sono! E mi ha appena detto di lasciarli il loot! Mamma mia! Stiamo scherzando! Yes! Mi ha chiesto di lasciarmi il loot! It's my loot! Wait! Ho l'emmo! Ok! Why do you take my ammo? Now you have ammo! Ok! So! Ok! I report you to Epic Games! Ma eccolo! No! Ho sbagliato il sotto! Wait! Wait! Ok! Adesso miriamolo! Miriamolo! Oh no! Ho capito dove si trova! Ho capito dove si trova! Andiamo a prenderlo subito! Si trova da quella parte! Che sta lutando! Ok! Ok! Ci buttiamo su questo bellissimo lounge pad! E andiamo! Arrivo! Non ti preoccupare! Sto arrivando! Ehi! Sto arrivando! Mi ha visto! Mi ha visto sì o no? Oh! Guardalo! Spariamo al razzo! Ho sparato al razzo! Che cosa vuole fare? Che cosa vuole fare? Continuiamo a sparargli! Fantastico! Wait! 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 I say! Wait! Why? I want a good fight! Oh! Dice che vuole un buon fight! Va bene! Aspettiamo! Ok! Give me drink shield! I want a good fight! I give you drink! Here! Here! No! Ok! Thank you! Ok! Give me drink! I give you drink! Ma cosa c'è il C4? Appena buttato il C4! Yes! Stop! Wait! Wait! Ok! Dice di aspettare! Aspettiamo! How many HP you have? Eh! One hundred! Guardate! Guardate che mi vuole uccidere! One hundred? Yes! Lui mi ha detto di aspettare! Perché adesso lui mi vuole uccidere! Guardate! Guardate! What are you doing, man? You say! You say! One hundred! Stop! Stop! Stop right now! Stop right now! No! Non ci posso credere! One hundred! Why are you shooting? And you have two hundred! But it's... You said how many HP? I have 100 HP! Ma questo è stupido! Mi ha chiesto quante HP ha! Ma è stupido! Dice che ho 200 HP! Non ho 200 HP! Ne ho 100! Non so neanche a giocare a questo gioco! Oh mio Dio! Non so neanche a giocare a questo gioco! Sì! Sì! Non so neanche a giocare! Ma è stupido! Guardate! 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 Ok! Ok, ok Oh mio dio Oh, oh Don't kill me Don't kill me, mi volevo uccidere Don't kill me E mi stavo cercando di uccidere Non ci credo, che figata Mi sto divertendo tanto con questo ragazzo Vabbavia Man, stop shooting me Are you scared? Oh, eccolo, eccolo, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto L'ho visto, perfetto Oh mio dio Cosa credevo, che non potevo ucciderlo 183 metri, non sono così lontani You want my skin I don't give you my skin Sentitelo come dice No, io non ti do la mia skin Ok, facciamo una cosa Andiamo a vedere dove si trova, perché siccome si trova Qua le aziende, stop capping, where are you Are you sure you are tilted? Yes, yes Guardate, in front of you L'ho detto che sono di fronte a lui Aiuto No, ha saltato Ha saltato, ok Ora che li abbiamo sparato, secondo me starà fermo Perché non capisce da dove li ho sparato Guardate, guardate Basta saltare Basta saltare No Ha saltato Gli è passati grazie alle gambe Oh, dice da dove sono in tilted Sono qui Sono lì, sono lì Oh, non ci credo quanto è fortunato Quanto è fortunato quello Quanto è fortunato Ma che cacchio Oh, eccolo Mi ha visto No Mi sta sparando la scala Sta sparando la mia scala Stiamo attenti Stiamo attenti Oh, adesso ho capito dove sono Perfetto Comunque deve far uscire la testolina per spararmi Quindi possiamo spararli Oh, non mi ha ancora visto invece Oh, eccolo Boom 156 metri Ho detto Tilted towers In front of you E invece non so Non è in tilted I can Can I take that loot? Mi sto chiedendo se posso mandare il loot No, no I want my loot Ok, ok Ok Sta atterrando, sta atterrando Sta atterrando No, no, no Non prendo il mio loot Guarda Facciamo una cosa Andiamo 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 a prenderlo Andiamo a prenderlo I don't I don't I don't I don't I don't Cosa? Ma che sto dicendo? Guarda che non te l'ho preso io Questo qua Don't kill me Don't kill me Guardalo Guardalo Oh mio Dio Non ha capito niente Si stanno scondendo Questo piccolino Ma cosa fai? Guardalo Non ci credo Non ci credo Non ci credo Aiuto Ma non sto hackerando Solo perché gli sparo in testa Questo qua Crede che sto hackerando Ma perché? Now, 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 now Man, stop crying Sì, sì, stai piacendo Ok, ok Guardate, guardate dove è andato Oh, è andato sul mio launchpad Ok, facciamo una cosa Spacchiamo con il launchpad Perfetto Ok Reporti Non è piangere Aiuto Guardate, guardate Wow Ti abbiamo sottato Oh E' tornato a sottare mia madre E poi vuole riportarmi Ma che cosa? Wait, wait I riporto Ok, ok Wait, wait I riporto Ok, riporto Oh, sì Ma se stai correndo Come Ehi, fini Come fa a riportarmi Se sta correndo sul gioco Non può riportarmi Se sta correndo Ok Lo facciamo Lo facciamo Lo spaventiamo Lo spaventiamo Eccolo che sta atterrando No L'avevo quasi preso Guardalo, guardalo Guardalo Crede di essere furbo Crede Di essere furbo Oh mio Dio Difficile E' difficile Ma che cosa fa? Dice Lo mi prende in giro Ehi, ehi Come, come, come hoci Prende in giro Come, come, come hoci Come, come hoci Prende in giro Ti distruggo Ti distruggo Boom Oh mio Dio Sì Fantastico Vai, vai, vai Vai, vai, vai Glielo tiro addosso Sì Fantastico E' troppo divertente Il missile guidato Sono contento Che l'hanno rimesso Perché su park giochi E' divertitissimo Da utilizzare No, riporto Non ora Ma ti riporto Abbiamo trollato abbastanza Che lui deve andare via Quanto pare Sua madre lo sta chiamando Comunque mi sono divertito tantissimo In questo fantastico troll Su park giochi Spero che vi sia piaciuto l'episodio Raggiungiamo i 3000 mi piace Per un prossimo episodio Appena li raggiungiamo Faccio un altro fantastico video Iscrivetevi al canale Premendo il tasto rosso Iscriviti Per supportare questa fantastica serie E ci vediamo A un prossimo video Ciao ciao Ciao